Se una mattina vi svegliate in preda alle farfalle nello stomaco, avete un brutto crampo dello scrittore o uno strappo al cavallo o pensate di aver beccato il mal della vedova, niente paura. Potete sempre rivolgervi ai medici dell'ospedale dei pupazzi che sono in grado di guarire cuori infranti, acqua al ginocchio, ossa del desiderio e possono mettervi qualche costola di ricambio. Malattie rarissime fuori da ogni realtà che a quanto pare fanno soffrire i pelucci e le bambole di casa e perfino qualche feroce tirannosauro gommoso. Ne sanno qualcosa i bambini delle prime e seconde classi dell'elementare Dovidio di Campobasso che hanno approfittato della visita dei futuri dottori del segretariato italiano studenti medicina per far visitare e curare tutti i teneri compagni di giochi all'ospedale dei pupazzi. Che malattia ha il tuo pupazzo? Si è rotto la cavia. E poi cosa ha dovuto fare il dottore? L'ha dovuto affasciare il piede e non si deve muovere per due settimane. Senti ma tu hai paura di andare in ospedale? Si. E perché? Perché sono come il gogu, mi piacciono le siringhe. L'iniziativa ormai al quinto anno continua a riscuotere il gradimento dei bambini che con l'ospedale dei pupazzi si avvicinano al mondo dei reparti per imparare che siringhe, prelievi e operazioni chirurgiche non devono fare paura. Abbiamo il nostro dottor Tripozza che è il clown e abbiamo i nostri farmaci per i pupazzi, lo sgonfio, il salvapancia, la bassa febbre così per cercare di far capire ai bambini che quando c'è anche la necessità di vivere questa situazione si può affrontare senza averne paura. E quindi i bimbi hanno visto i dottori all'opera, analisi del sangue, elettrocardiogrammi, radiografie e poi magari una bella dieta per i pelucci in sovrappeso. meno dolci e più spremute d'arancia. I bambini hanno reagito molto bene all'iniziativa soprattutto oggi e sono rimasti molto entusiasti anche perché li abbiamo riempiti di palloncini, hanno fatto il giro e hanno un ruolo interattivo nell'ospedale dei pupazzi.